Buonasera e buona domenica, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestè in 70. La cronaca in questa edizione dovremo parlare anche della scomparsa di Monsignor Paolo Valenti, molto conosciuto in città, ma parleremo in questa edizione anche di un progetto futuro che riguarda lo spazio Antonioni, parleremo ovviamente anche di Baskers, oggi è stato l'ultimo giorno del festival ma parleremo anche di Spal, dopo la bella vittoria di ieri c'era un po' di preoccupazione per le condizioni di Moncini che è stato l'attaccante della Spal, è stato ricoverato in ospedale ma dicono dalla società che sta bene ma dobbiamo aprire con la cronaca, questa edizione del telegiornale è per parlare dell'incidente di questa mattina poco dopo le ore 6 e 30 sulla tangenziale est di Ferrara in via Zamboni all'altezza di Codrea e vicino all'incrocio con via della Ginestra due auto sono venute a collidere, ferita grave una donna di 43 anni trasportata d'urgenza all'ospedale di Cona, meno serie le condizioni dell'altro conducente un uomo di 25 anni, anche lui portato nel vicino nosocomio Sant'Anna, intervenuti anche i vigili del fuoco i feriti erano rimasti incastrati nelle auto incidentate sul posto, anche due ambulanze, un'automedica oltre alla polizia locale intervenuta per ricostruire la dinamica dell'accaduto e cambiamo argomento adesso, in settimana è arrivata una notizia importante che guarda al futuro della città una vicenda annosa che potrebbe avere una conclusione felice se andrà in porto stiamo parlando dello spazio Antonioni che potrebbe essere pronto nel 2024, sentiamo Un'autentica macchina espositiva che nascerà entro la primavera del 2024 nel segno dell'arte e dell'eredità del regista ferrarese premio Oscar Michelangelo Antonioni con pareti mobili quinte, una porzione dedicata alle proiezioni e un'altra porzione per i 47.000 documenti del fondo donato dal regista e dalla moglie Enrica Fico al comune di Ferrara e una porzione dedicata alle mostre temporanee Sono questi in sintesi gli elementi del progetto dello spazio Antonioni del valore di 1.750.000 euro finanziati con fondi comunali che dovrebbe essere approvato segnando un nuovo passaggio dell'iter il quale dovrebbe portare in meno di due anni alla completa riqualificazione dei locali dell'attuale padiglione d'arte contemporanea di corso Portamare a Ferrara Da tanti anni si parla in città di dedicare uno spazio ad Antonioni tra i suoi cittadini più celebri ma finora non si era raggiunto nessun risultato concreto vedremo se questo progetto andrà in porto i lavori dovrebbero partire da gennaio 2023 di conseguenza il PAC rimarrà chiuso per il periodo del cantiere il progetto dello spazio Antonioni dovrebbe essere presentato presto è stato detto dall'amministrazione ai cittadini nel corso di un incontro pubblico e come detto in apertura di telegiornale è venuto a mancare oggi all'età di 63 anni il sacerdote Monsignor Paolo Valenti il rettore del seminario Arcivescovile di Ferrara parroco della parrocchia della Beata Vergine Addolorata in corso Piave e vicario episcopale per la carità pastorale nonché membro del capitolo della cattedrale Monsignor Valenti diresse la caritas per 20 anni fino al 2013 ad annunciare la sua scomparsa attraverso un comunicato stampa Monsignor Giancarlo Perego in unione e a nome dell'Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio queste immagini che vedete risalgono appunto quando Monsignor Valenti era direttore della caritas la data e il luogo delle esecue saranno comunicati al più per resto dicono dalla Arcidiocesi e cambiamo adesso totalmente argomento fra poco nel corso del telegiornale parleremo del Ferrara Baskers Festival oggi è stato l'ultimo giorno ed è stata alta l'affluenza di turisti in questi giorni in città per uno degli appuntamenti più attesi di turismo abbiamo parlato con Marco Ameglio neoeletto presidente di Ascom Commercio Ferrara quale futuro per questo settore molto importante per il tessuto economico ferrarese sentiamo la risposta di Ameglio i dati sul turismo sul primo semestre del 2022 sono positivi più 4,7% a livello provinciale addirittura se parliamo dei Lidi parliamo di più 10% lavoriamo sempre al confine tra shopping, ristorazione, enogastronomia, cultura credo che sia opportuno cominciare a ragionare a una proposta turistica che vede tutto il territorio una proposta turistica che non viene solo da una vocazione ma da più vocazioni quindi ragionare su un territorio in base alle proprie vocazioni che propone una proposta turistica che viene scelta per l'esclusività non tanto per il costo è fuori discussione che Commercio ha sempre chiesto a tutti gli enti una pianificazione e una programmazione degli eventi perché oggi sono veramente un traino per il turismo la dimostrazione è proprio qua nella città di Ferrara che gli eventi estivi hanno incrementato i flussi turistici e onestamente oggi abbiamo solo i dati del primo semestre attendiamo quelli del secondo semestre ma sicuramente auspico che siano migliori è chiaro che il turista vuole una proposta arricchita quindi la peculiarità di un territorio va vista nel suo insieme e quindi dall'Alto Ferrarese al Capoluogo al Basso Ferrarese questo secondo il mio punto di vista con un coordinamento e ovviamente una stretta collaborazione con il pubblico perché qua è importante una collaborazione tra pubblico e privato potremmo creare un calendario e incrementare sicuramente i flussi turistici altro aspetto è stringere alleanze mi spiego meglio con l'università calcoliamo che sono 27.000 matricole quindi l'impatto economico che generano sulla città di Ferrara e sul territorio provinciale è rilevante a mio parere bisogna incentivare questa sinergia perché il nostro comparto ne beneficerebbe e torneremo a breve a parlare di eventi adesso parliamo di sanità con il Covid e la situazione aggiornata dall'ultimo bollettino situazione che è stabile rispetto ai giorni scorsi sono 132 nuovi positivi nel Ferrarese l'aggiornamento in Emilia Romagna registra più di 1500 nuovi casi e circa 1700 nuovi guariti ancora in calo quindi i casi attivi in regione in leggera crescita i ricoveri nei reparti ordinari Covid e nelle terapie intensive emiliano-romagnole come detto prima quindi torniamo a parlare di eventi ultimo giorno oggi del Ferrara Baschers Festival come abbiamo visto nelle scorse serate molte persone hanno gremito il centro di Ferrara abbiamo sentito turisti, artisti e addetti ai lavori in questi cinque giorni di festival raccontiamo che cosa succede qui all'interno qua diamo informazioni ai turisti e vendiamo anche tutto il merchandise del festival e le varie guide, mappe turisti da dove arrivano? principalmente ferraresi abbiamo incontrato molti da Bologna però anche qualcuno di straniero ma pochi che cosa chiedono e voi che suggerimenti date a chi arriva? molti chiedono chiarimenti sull'orario e sui luoghi in cui si esibiscono gli artisti sera per sera come sta andando questo infopoint? sta andando benissimo ieri c'è stata tantissima gente abbiamo venduto tantissime magliette e sono stra belle quindi io invito tutti a quelli che fino al 28 verranno a basket festival di comprarle vivetevi il festival e passate da noi se avete delle domande da fare perché appunto siete vedere i basket? che cosa vi appassiona di questo appuntamento? beh io anni che ci vengo cioè anche quando ero piccola ci sono sempre venuta e in genere mi piace il fatto che ci siano comunque artisti di strada comunque anche esibizioni varie anche insomma un po' di cambiamento anche perché si va dall'arte arte in generale che arte in senso tipo sport o cose del genere allora siamo all'inizio della serata la vi appassiona questa situazione già vi piace l'atmosfera che si respira qui a Ferrara? sì io è la prima volta che ci vengo però ho visto tante robe belle ci sono persone brave che fanno robe perché gli piace tanto è molto bello per esempio tu che spettacolo ti aspetti? vorresti andare a vedere adesso? che tipo di genere di spettacolo? ho visto un ragazzo che ci aveva un cerchio e quindi a me queste cose abbastanza fisiche mi piacciono quindi voglio vedere che cosa fa da dove venite? io e lei Bologna, siamo sorelle e conoscerate già i Baskers immagino? venuti altre volte quindi insomma ritorno quest'anno alla normalità e quindi ritorno a vedere tanti spettacoli si prova, si fa al tentativo ma conoscete già qualcuno di chi esibisce oppure siete venuti un po' alla cieca? alla cieca completamente voi preferite musica o altro? musica indifferente, mi piace l'evento e voi invece dei Baskers conoscevate anche voi immagino questo festival? ti do dire ma è la prima volta ah, hai già visto qualcosa? appena arrivati che cosa ti aspetti allora? aspettative da questo appuntamento? aspettative altissime adesso vediamo tu invece conoscevi già? conoscevo, venivo già con la mia famiglia quindi e allora conosciamo anche gli artisti protagonisti del Ferrara Baskers Festival intanto tu sei? Paradoxa vengo dai lontani castelli romani soprattutto quando si prendono i mezzi pubblici lontanissimi e questa sera sarò qui a proporre uno spettacolo di divulgazione scientifica con sottofondo le bolle di sapone e non solo tante cose ci saranno e cercherò di non perdermi una bolla di sapone cosa che già sto iniziando a fare vedendo il caos che si sta sviluppando qua intorno a me a Ferrara qui al Baskers Festival come potete vedere ci sono tantissimi artisti oggi è la seconda giornata ad esempio abbiamo la Sara che regala tatuaggi che poi spariscono di notte quando non te ne accorgi abbiamo la Kimberly che ti fa degli autoritratti molto belli in questo momento Titti sta facendo una performance di ballo con i colori insomma gli artisti Baskers perché poi alla fine siamo tutti un po' Baskers no? ad esempio voi bastano due palline quindi vi aspettiamo al Ferrara Baskers Festival però arrivate subito e come detto oggi è stato l'ultimo giorno ma se torniamo all'inaugurazione di mercoledì scorso e l'intervista fatta all'ideatore Stefano Bottoni capiamo i motivi del successo di questo festival che dura da 35 anni 35 anni e non sentirli e non si sentono si sentono e soprattutto dopo due anni di fermo pesca non ci siamo mai fermati che non è un vanto e non ci siamo fermati perché abbiamo lavorato sotto tono e ci siamo stati ci siamo stati e quello che sta avvenendo adesso e Comacchio ieri sera ieri sera c'era c'era Comacchio strapieno e questo ha dato l'idea ma come quello che sta avvenendo qua c'è la festa le persone hanno bisogno di stare in festa ma al di là che Stefano Bottoni abbia inventato 35 anni fa una roba sono emozionato quando vi sto parlando voi lo state vedendo perché io avevo Lucio Dalla che veniva nella mia officina e mi diceva mi prendeva così se avrei bisogno vengo a suonare vengo a suonare Lucio Dalla che era reduce da Banana Republic andatelo a raccontare a qualcun altro il mondo fantastico è questo qua e se penso che noi abbiamo bisogno di cose povere Simone Weil e dai che citiamo Simone Weil diceva che l'uomo ha bisogno di pane e di poesia cose povere la poesia cos'è? mi illumino d'immenso ma è una parola è aria il pane è la cosa che tutti i giorni noi dobbiamo avere sotto per la nostra alimentazione le persone che stanno suonando qua vengono dal Sudafrica dall'Australia vengono per stare in festa in festa vuol dire in festa qui dentro una manifestazione che ha portato Ferrara nel mondo e tutto il mondo a Ferrara sì perché ma io sono un privilegiato sono uno che alzando il dito nel 1987 lassù dal sindaco che mi diceva vai che i soldi li troviamo e non pensavo di riuscire a inventarmi una barahonda e qualcuno mi dava credito il nome Basker l'ho avuto da un'amica che studiava a Londra in un college e gli chiesi una sera di dicembre come ne chiamano i musicisti di strada là e mi disse qui i musicisti li chiamano Basker era illuminante Basker sono 35 anni che facciamo questa operazione è un circo che viene e si smonta automaticamente sono le persone come quelle che sono qua in questo momento è il bello di riuscire a stare insieme quando fino a ieri era vietato stare insieme parliamo ancora di eventi ancora pochi giorni giovedì tornerà estate bambini a Ferrara per l'edizione 2022 estate bambini si fa in tre per moltiplicare i luoghi del divertimento per bambini e famiglie tra giovedì 1 e sabato 17 settembre la manifestazione attende infatti piccoli e grandi con il suo carico di giochi, laboratori e spettacoli a Parco Massari con la rassegna di appuntamenti teatrali di feste bala selestense e con le narrazioni della Biblioape nelle frazioni di Casaglia e San Bartolomeo in Bosco promossa dal comune la manifestazione completamente gratuita e accesso libero sarà gestita dal consorzio RES riunite esperienze sociali assieme all'associazione Circi il centro iniziativa ricerca condizioni dell'infanzia il programma consultabile sul sito estatebambini.it è stato presentato in settimana torna così uno degli appuntamenti che caratterizzano come da tradizione il fine estate in città dopo le numerose restrizioni dell'ultima edizione dovute all'emergenza pandemica con il cambio della tradizionale location che era l'acquedotto si è voluto così innovare e migliorare ulteriormente questa iniziativa l'hanno detto gli organizzatori Inaugurazione per la giostra del Monaco venerdì sera diciottesima edizione alla presenza delle autorità tra cui Patrizio Bianchi ministro della pubblica istruzione Matteo Fornasini assessore al turismo del comune di Ferrara nei loro discorsi è stata elogiata la forza d'animo dei contraddaioli nel voler divertirsi e creare divertimento la serata è poi proseguita con esibizioni di sbandieratori armati danza e giochi equestri la giostra del Monaco proseguirà fino al 4 settembre sul baluardo di Santa Maria alla Fortezza e siamo ovviamente in Viale 4 novembre a Ferrara e a Ferrara appunto arrivano anche gli incontri dell'Italia gentile di cosa si tratta lo sentiamo Arriva anche a Ferrara il movimento dell'Italia gentile attraverso una serie di incontri che si terranno in vari luoghi della città tra fine settembre e il 13 novembre giornata mondiale della gentilezza a promuoverli è Elisa Pifanelli pianista ferrarese esploratrice di suoni e insegnante di musica dal movimento è nato anche il Festival dell'Italia gentile la cui seconda edizione si è svolta a Firenze dal 17 al 23 maggio scorso l'Italia gentile è un movimento che si propone di declinare il valore e i comportamenti della gentilezza in tutte le sfere della vita sociale e individuale dall'economia all'ambiente alla scienza alla salute all'educazione e in tutti quegli ambiti come l'impresa il benessere la cuore delle persone così come la spiritualità l'arte la cultura in cui si esprimono le azioni individuali e collettive con lo scopo di trasformarne la pratica in progetti concreti capaci di generare un profondo impatto sociale il movimento ha come modello di riferimento il My Life Design e l'associazione My Life Design Foundation che ha l'obiettivo di arrivare direttamente al cuore delle persone e determinare attraverso la condivisione e l'azione una radicale trasformazione sociale a Ferrara Elisa Pifanelli preparerà a partire dal 24 settembre un ciclo di incontri che vanno dalla presentazione del movimento di Italia Gentile alla camminata della Gentilezza che si terrà lungo le stade cittadini il 13 novembre in occasione della giornata mondiale della gentilezza il movimento vante i lustri maestri nel mondo delle scienze del benessere nella pratica della meditazione e nella medicina intende dare una risposta concreta dice Elisa Pifanelli alla crisi valoriale della nostra società con la divulgazione di una reale biologia dei valori in questa ottica si propone come una rete diffusa sul territorio nazionale con l'intenzione di divulgare e diffondere la gentilezza e i valori ad essa correlati Sport adesso SPAL società che ha comunicato che Gabriele Moncini a seguito del trauma cranico subito nel finale della gara di ieri tra SPAL e Cagliari ieri sera è stato trasportato immediatamente all'ospedale dove sottoposto ad indagini strumentali è stato tenuto sotto osservazione dai sanitari come normale Prassi le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione dicono dalla SPAL nei prossimi giorni sarà valutato il percorso di rientro alla normale attività sportiva insieme allo staff medico della società e appunto ieri sera si è giocato SPAL Cagliari i primi tre punti d'oro per i biancozzurri che in una partita soffertissima hanno battuto per 1 a 0 i sardi allo stadio Omazza che ha fatto registrare un ottimo flusso di pubblico nonostante siamo ancora a fine agosto una prodezza aerea di Lamantia e un paio di interventi di Alfonso sulla padula compreso il rigore e respinto all'attaccante della nazionale peruviana a inizio ripresa hanno così spianato la strada verso il meritato successo della squadra di Venturato contro la corazzata Cagliari allora sentiamo il racconto della partita ma anche soprattutto le interviste a fine gara Taccolo e emozione non finire tra Spalla e Cagliari con alla fine il meritato successo della formazione di Roberto Venturato decide un gol di Lamantia veramente da incorniciare il suo colpo di testa su cross di Zanellato al 37esimo del primo tempo per l'ex attaccante dell'Empoli si tratta della seconda rete in tre gare io credo che sia stata una bella partita giocata da tutte e due le squadre che hanno provato a vincerla abbiamo creato qualche occasione noi qualche occasione loro siamo stati bravi ad andare in vantaggio abbiamo avuto anche un'occasione all'inizio del secondo tempo importante con Proia sicuramente il temperamento la voglia di vincere e anche in qualche momento della partita la capacità di costruire un po' di identità e di mantenere un certo tipo di logica in campo l'abbiamo avuta sicuramente la cosa che prevalsa è stata la voglia di vincere e la voglia di aiutarsi a vincere questa partita è chiaro che dobbiamo sicuramente migliorare molto sotto all'aspetto della qualità e della capacità di interpretare determinate situazioni però dobbiamo anche essere molto contenti di aver avuto una squadra che ha lottato di fronte a un pubblico straordinario come sempre che ci dà una mano una grande mano in ogni partita è un valore che dobbiamo tenerci dentro come il temperamento che abbiamo dimostrato noi a voler ricercare la vittoria sono molto contento soprattutto per i miei compagni per i tifosi per gli amici che mi sono venuti a trovare da Vicenza oggi che hanno portato bene e che abbiamo fatto tre punti in casa che mancavano da un po' insomma ne parlavamo in settimana che il trend in casa zoppica un po' io ho un grande feeling con la città di Ferrara con la piazza nel senso che sono molto contento e onorato di essere qua e cerco di trasmetterlo ai più giovani che che magari non la saporano come dovrebbero quello che ha mostrato oggi la squadra è quello di cui vi parlo da inizio anno ha mostrato grande attitudine grande determinazione grande voglia di vincere questa cosa mi riempie veramente d'orgoglio non posso che essere molto felice di quello che ho visto stasera conosco il valore di questa squadra il valore dei giocatori e non ho mai avuto dubbi su queste qualità ma questa vittoria questa sera è veramente importante oltre che per i tre punti proprio per lo spirito combattivo con cui è arrivata questa questa vittoria questa gioia di stasera mi dà una grande rinforza molto la mia la mia fiducia in questa squadra che è sempre stata intatta ma stasera mi hanno veramente mostrato quello di cui sono capaci e sono veramente orgoglioso dei ragazzi e del loro atteggiamento prima vittoria stagionale per la squadra di Roberto Venturato in attesa di quelle che potranno eventualmente essere le prossime mosse di mercato anche questa sera si è avuto la conferma che è necessario l'innesto di un difensore e dopo la partenza di Viviani servirebbe anche un elemento per completare il centrocampo molto probabilmente mosse che potranno essere condotte in porto esclusivamente in caso di partenze ma soprattutto in difesa sembra proprio indispensabile l'innesto di un giocatore si fa il nome di Fiordaliso ma sinceramente sul mercato potrebbe esserci qualcosa di meglio di questo si parlerà domani sera con match per questa edizione è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata grazie a tutti